Antonio non potrà più entrare nella mensa del centro di urno Gabbiano a Pesaro se non si munisce del certificato verde. È stata una doccia gelata per mamma dellaide che circa dieci giorni fa ha ricevuto questa lettera firmata dal responsabile della cooperativa Laberinto che gestisce il centro. Vi comunichiamo, si legge nel documento, che come da indicazioni ricevute dall'area Vassa 1, da giovedì 25 dicembre la possibilità di usufruire del pasto sarà consentita solo a chi è in possesso del Green Pass. Non viene specificata però nessuna normativa di riferimento. La cosa certa è che Antonio senza lascia passare rimarrà escluso. Da qui la decisione della madre di rivolgersi all'avvocato Pia Perricci. Non è specificato che tipo di Green Pass però nella riga successiva si dice se volete fare il vaccino sappiate che avete una via preferenziale. Quindi viene spinto il tutto verso la via del vaccino. Quest'ora che cosa comporterà? Questo comporta uno sconvolgimento totale della vita di questi ragazzi che già non sono stati fortunati perché hanno delle patologie più o meno gravi, anzi più gravi. In questo caso si tratta di un ragazzo di 30 anni, Antonio, che è autistico e autolesionista. Come gli studi scientifici dimostrano, i ragazzi autistici hanno la necessità di avere una routine costante nella loro vita. Quindi delle regole ben precise perché quando si esce dagli schemi hanno delle crisi comportamentali. Avendo a che fare anche con un ragazzo autolesionistico, le crisi comportamentali possono essere anche molto gravi. Per cui Antonio si è ritrovato a vivere all'improvviso una realtà che non gli appartiene perché Antonio sono anni che vive la sua stessa quotidianità, entrando nel centro la mattina e terminando il centro verso le 17. Il problema, prosegue l'avvocato, non è solo il cibo. Infatti il momento del pranzo rappresenta anche un'attività educativa durante la quale si insegna come si mangia, come si tengono le posate, come si apparecchia e si ripulisce la tavola. La parte più assurda di tutta la vicenda è che i ragazzi all'interno del centro sono tutti senza mascherina. Durante tutto il giorno sono seduti costantemente tutti quanti insieme sul divano a vedere la tv, a giocare. Gli unici che indossano la mascherina sono gli educatori e nella sala mensa i tavoli sono uno a uno, cioè un educatore, un ragazzo. Dal punto di vista legale come sta procedendo? Noi abbiamo mandato una diffida sia all'area vasta 1 che alla cooperativa che gestisce il centro di urno, diffidandoli dall'applicazione di questa normativa e dando un tempo immediato di 24 ore. Nel momento in cui non riceviamo nulla, cioè entro la giornata di oggi, domani procederemo col deposito di un ricorso al fine di tutelare la vita di questo ragazzo, di tutelare la salute di questo ragazzo e di tutelare quello che è il suo percorso di crescita. Perché anche i ragazzi autistici hanno diritto, anzi non anche, soprattutto loro, hanno diritto ad essere aiutati e compresi, ma soprattutto aiutati dalla società e non messi in crisi da regole che neanche esistono. La battaglia quindi proseguirà per tutelare i diritti del trentenne. L'imposizione però si ripercuote anche sulla madre, provocando disagi e preoccupazioni. Privarlo del momento del pranzo significa di togliere non solo un momento educativo, ma anche un momento di socializzazione. Quindi io sono costretta ad andarlo a prendere alle 12 e 15 e riportarlo a casa, anche perché io non abito a Pesaro, abito a Tavuglia e quindi poi riportarlo alle 1 e mezza è impossibile, anche perché mentre arriviamo a casa e pranza, poi dopo lui giustamente vuole anche un po' riposare, non lo riporto in macchina per fare un'altra ora di centro diurno. Io mi trovo anche nella condizione di essere divorziata, quindi vivo io da sola con mio figlio, non ho parenti qui e quindi gestisco da sola Antonio. Togliere anche il centro, che è un suo diritto, mi sembra anticostituzionale, a dire la verità, perché le persone disabili dovrebbero avere una maggior assistenza, un maggior riguardo, mentre invece gli stanno ledendo proprio i diritti principali.